Da ieri mattina a Piaggini è ufficialmente riaperto il sentiero del Cervati, l'antico percorso da sempre riferimento delle popolazioni locali per raggiungere la vetta più alta della Campania. Dopo un importante lavoro di recupero da parte degli operai della comunità montana Calore Salernitano, che il sindaco di Piaggini Guglielmo Vairo ha voluto ringraziare, riapre così l'antico percorso che, partendo dal ponte sul fiume Calore, luogo caratteristico e simbolo di Piaggini, attraverso il piano di Roti, località Fessola, salendo fino alla nevera, porta la vetta a Cervati. Un momento importante non solo perché è stato restituito alla fruizione della comunità un sentiero che racconta le antiche tradizioni di Piaggini, caratterizzate da un'economia agricola che vedeva nel lavoro dei campi ubicati lungo il sentiero la fonte di ricchezza del territorio, ma anche perché può essere un importante veicolo per attrarre turisti appassionati di escursionismo, trekking di montagna e più in generale di natura. Ed è proprio sui molteplici significati che la riapertura del sentiero ha per la comunità di Piaggini e non solo che il sindaco Guglielmo Vairo ha incentrato il suo discorso alla comunità presente all'evento. Per il primo cittadino però la riapertura del sentiero ha un ulteriore valore che non va tralasciato, la collaborazione tra enti. Vairo infatti ha voluto sottolineare come per il raggiungimento dell'obiettivo è stato importante vedere le varie forze chiamate ad intervenire collaborare in stretta sinergia. Amministrazione comunale di Piaggini, comunità montana Calore Salernitano, associazione volontari, tutti insieme hanno operato al fine di raggiungere l'obiettivo che si è concretizzato ieri con la riapertura del sentiero del Cervati. Ed è proprio a quanti hanno lavorato al progetto, ognuno per le sue competenze, che il sindaco Guglielmo Vairo ha rivolto il suo sentito ringraziamento prima di procedere al taglio del nastro che ha sancito la riapertura ufficiale del sentiero del Cervati. A seguire è stata scoperta la prima delle diverse opere realizzate da Franco Vertullo che accompagnano l'intero percorso del sentiero. A presenziare all'inaugurazione anche i referenti del CAI di Montanantilia che ha accompagnato un gruppo di escursionisti a percorrere per la prima volta dopo il recupero il sentiero del Cervati dal ponte al monte.